Preghiera speciale per affidarti a Dio. Caro Dio, sei la nostra forza quando tutto sembra perduto. Tu sei la nostra luce in mezzo alle tenebre e in questo giorno in cui il sole illumina di nuovo le nostre vite. E un buon momento per chiederti di darci la forza di cui abbiamo bisogno per andare avanti nonostante le avversità. Sei sempre con noi. Ecco perché in questa preghiera voglio darti la mia vita. La vita della mia famiglia e delle famiglie di tutto il mondo. Per nonni, padri, madri, figli, zii, nipoti e per tutti quelli che amiamo e portiamo sempre nel nostro cuore. Ti prego, mio Signore, ascolta la mia preghiera. Mi affido a Te, con grande fede e speranza perché credo in Te e confido nella Tua grande potenza. Ti ringrazio per la Tua misericordia e perché nonostante tutte le difficoltà, non mi abbandoni mai. Ti lodo e ti benedico nel nome di Gesù Cristo. Amen.